questo l'avevo già messo in conto ovviamente dalla clip che l'ho postato su Elwood che fosse chiaro ma che caldo che c'è Dio cane oggi da me siamo in 37 gradi percepiti mille lunedì in Sardegna da me c'era la massima a 46 cosa ne pensano i migliori hanno portato minchia lo spettro l'avevo fatto chi lo sa non è che possiamo tenere la paraccia delle due allora dovrò finire la pistolina della minchia allora guarda che ti copro le spalle guarda che team building che facciamo oh già mi è partita una laggata ma non è che lagga questo lagga come la merda chi è qua? chi è G? no go blaze eh merda sono trovato in un mutuo posizio a parte che dobbiamo abituare a cambiare l'arma quando c'è un'idea spigatemi sto bastardo qua voglio morire quindi taglia da parte di un po' di astio probabilmente quello era riferito a roba vinto che è finito in mezzo a una gangbang mia di necro invisibilità in aria lo spettro è qua e lo spettro è super invisibilità in genna vai Gis sbrigati ok ci siamo qua io e Ropp sbrigati cosa spari? ma ti ammazzo ma ti ammazzo ma cosa sta facendo? ma non è un'occasione d'oro ma avete detto uccidi 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 ma Ropp è un'inizio della sera che dice basta che uccidi se siamo fermi che stiamo aspettando gita noi ci dobbiamo ammazzare cosa è questa cosa? io ammazzo se vedo rosso uccido ahia mi è comparso un simbolo uccidi adesso chi è questo qua? beh da affa non va bene non hai capito bene come è la gita un'erarchia qua io ho capito che devo uccidere se li uccido nooo ma il Gis ce la fai? oh adesso cerca noi in gruppo aspettate ma hai fatto la doppia kill? no ancora no ha preso è il demon adesso Gis diciamo ci sono una tre che uccidete come in squadra non riesco non riesco a me si qua si stanno modificando quegli altri guardi è l'asta che ci ammazza tra l'altro niente ancora sta facendo trofeo Gitte è Gitte da allora sta facendo il trofeo Gio Blaze è uno degli invasati sii si avevo il sospetto si avevo il sospetto Gitte sono vicino a te sono io questo qua ho damage in arrivo eh dove siete siamo nella stanza principale dove c'è in arrivo tra 3 e 2 e 1 e veloci per la via eh arriviamo arrivo arrivo vai sono qua sono qua vedete veloci vai dai c'è si si vai cosa mi uccidi eh il bardo sto fermo comunque rompo è fatto la la carica madonna ma tu che console stai giocando ma sulla PS3 stai giocando ti stai parliando guarda il PS2 quello ah amiche anche io gli ho doppia kill adesso sono geloso eh quindi Gitte prendi mannaggia al Gitte adesso posso tornare a giocare l'ignoranza eh ma Gitte è venuto facile perché noi siamo tutti squadrati mamma mia porco di mamma mia io ho saluto sopra ci sei caduto sopra è una strada e via vai pronto e via così bisogna fare adesso uccidi con la pistoletta e sei a posto io l'ho finito la pittina del cazzo adesso non ce l'ho vinto demone alleato ucciso BFG in arrivo predatore nemico generato a metà strada per la sconfitta BFG generato aia BFG aia qui sono cazzo guarda il Gitte divertito ma guarda il demone fa se si potesse avere una partita senza cazzoni in mezzo magari la prima serata non c'era nessuna adesso che abbiamo capito come fare è impossibile mamma mia che spanata perché la gente sa quando ne vogliamo giocare perché loro ci sentono non dobbiamo dire niente è vero sì la prima serata non c'era nessuno di Ditto la bravava porco no eh mi hanno detto così e si vola e si vola in tutti i sensi dov'è? il vino anch'io il cazzo demone palle quello palle a cosa l'altra sera che faceva un miliardo di kill con tutti i guadissimi dove vai Asta dove vai grazie faccio i culi livello 1 non c'entra niente il livello adesso non pariamo sì 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 chi è che ne ruba le kill chi è? chi è? ne volevi a tutta roba strase che strase questo passì no ops occhio Assa occhio dio porco ora lo rilasza diciamo che lo rilasza ma è quello della cosa è che pensiassa quello della tua squadra che sparava il suo demone ci stanno anche guardando aia aia e mo? eh adesso usa la lingua L2 neri e con R2 tipo acchiazzi ma mi hanno già ucciso ma che cazzo c'ho l'invita minchia su chi al l'invita eh non l'ho mai esatto cazzo dame che cazzo è un caffia dame guarda se volessi che mi da fare lezze guarda 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 BFG generato Punti di sprenza infiniti Ma dai Dio morto BFG lasciato, cacodemoni Già il caldo guarda, non fa eh Punti di sprenza Punti di sprenza Non cazzo Cosa voleva fate? No basta Rofkeruba su queste kill! Cosa te ne fai? Non devi manco prendere i trofei! Se hai chiesto di giocare, è ovvio! Infatti si gioca meglio... Si gioca meglio senza... Revenant alleato generato Aia! Guarda è morto! Con uno di livello 1! Manca basta questo livello 1! Ma come fai a morire così? Ehi, ma vieni! Però effettivamente è un po' anomale come trovo, eh! Il doppice passato è anche difficile Ma no, volevo che non finisse mai questa partita E' divertente, divertente! Abbiamo vinto! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!